e benvenuti benvenuti monarchici assoluti pagellone della stagione ho fatto anche rima della nostra bene amata inter campioni d'italia seconda stella vinta in faccia ai ratti allora pagellone ma prima lo sapete iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti e subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video di quando faccio le live mi raccomando iscrivetevi al canale fatelo per idee dell'algoritmo di youtube dobbiamo crescere la voce del monarca deve crescere la nostra community allora facciamo il pagellone dei undici titolari poi qualche riserva summer voto otto è arrivato fra i dubbi generali e vecchi ha giocato al bayern monaco solo come solo perché no iersi era fatto male non ha più i riflessi di un tempo è stato un grande portiere ma adesso non lo è non sa giocare coi piedi così è arrivato agli ultimi giorni di mercato a 5 6 milioni quello che ha dimostrato in campo tutto il contrario miracoli non ultimo quello che ha fatto proprio nel derby che c'è c'è valsa la seconda stella due sere fa tre sere fa su calabria miracoli su miracoli forse conto un solo errore in stagione quest'anno che ci può stare e a giocare con i piedi è stato fenomenale perché se noi abbiamo fatto i gol che abbiamo fatto costruendo dal basso parte tutto da lui non mi ricordo giocate sbagliate di Sommer con i piedi quindi il suo voto è un bellotto grande grande Jan Sommer una sicurezza fra i pali e un grande gestore di palla top veniamo alla difesa Benji l'interista Pavard otto anche lui arriva fra i dubbi sul quanto è stato pagato no ma è stato pagato troppo 30 milioni un giocatore comunque le scadenze col Bayern Monaco non si sa nel campionato italiano eccetera il braccetto non il braccetto si è dimostrato fenomenale se quest'anno l'inter ha fatto molti più gol è dovuta alla costruzione che abbiamo fatto dal basso che si è ampliata col suo ingresso perché prima era più bastoni a essere bravo a giocare con i piedi adesso abbiamo anche Pavard che è fenomenale ha fatto una marea di assist in un ultimo mi viene in mente con la Juventus la rovesciata che fa lui in area che poi ci si fionda a Duram non ci arriva ma la prende Gatti autocolle 1 a 0 e quella partita è decisiva per farci vincere lo scudetto perché ammazziamo psicologicamente i copbi ladri quindi Pavard benissimo l'unica macchia eh nel nella partita con la Tético Madrid quel quel pareggio che nasce dal suo errore l'unica macchia che trova stagione di Pavard ma è stato fenomenale veniamo a a Cerbi a Cerbi anche a lui diamo otto ragazzi se nell'impostazione Pavard e bastoni a cui fra poco arriviamo sono fenomenali lui è quello che marca è quello che non fa passare nessuno anche quest'anno tutti gli avversari che ha incontrato tutti i centravanti se li ha messi tutti in tasca e nessuno mi leva dalla testa che ci fosse stato lui in forma con la Tético Madrid invece rientrava dall'infortunio parleremo forse di un'altra storia ma vabbè quel che è stato è stato detto questo Francescone fenomenale regge la difesa quindi otto anche per lui marcatura imposta anche benino si fa rispettare sui calci d'angolo e ogni tanto ci regala come qualche rispettazione come quella proprio nel derby vinto contro i ratti della stella è lui che apre le danze felice che la storia di Juan Jesus si sia risolta in maniera positiva non è stato provato che lui abbia detto nulla di che tutto qua bastoni otto e mezzo bastoni ragazzi io l'ho sempre un po' criticato per la marcatura in cui quest'anno è comunque migliorato molto in impostazione non è non è megalomania dire che è il miglior difensore d'Europa a impostare Alessandro bastoni quest'anno ancora di più degli altri anni si proiettano avanti le sue triangolazioni con Di Marco e Mkhitaryan sono un'arma imprendibile per gli avversari lanci lunghi stratosferici pensate al gol che fa Turam ma no nel derby proprio l'ultima partita il 2 a 1 il lancio come sempre suo o tutti i lanci che fa per Barella che si inserisce dall'altra parte dal lato debole lui o Darmiano o tu un frischi un carivi dalla testa bastoni è il nostro leader tecnico difensivo quindi fenomenale Alessandro fenomenale nelle ultime partite farà altro assist a profusione col Napoli eccetera quindi fenomenale e basto veniamo al centrocampo partiamo da lui ci vediamo subito il dente a gan Cialanopoulos 9 l'Inter se gioca bene 90 per cento e quando gioca bene Cialanolo l'Inter è Cialanolo gioca al suo ritmo Inter è Cialanolo e Lautaro per la precisione Cialanolo è il faro Cialanolo è quello che imposta la manovra Cialanolo è quello che fa la regia della costruzione dal basso assieme a bastoni ma è anche quello che fa il frangiflutti che è una cosa da non dimenticare cioè gli interventi che spezzano il gioco avversario contrasti scivolate fra le linee fenomenale Cialanolo in più in più in più sai che hai un rigorista che sa solo segnare infallibile quest'anno undici gol di cui credo nove o dieci su rigore uno sicuro no due li ha fatti su azione con Napoli e col Monza quindi nove su rigore fenomenale 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 il nostro Akan Cialanolo fenomenale 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 il nostro Akan Cialanolo allora veniamo a Mkhitaryan Mkhitaryan gli diamo anche lui un bellotto perché è il professore del nostro centrocampo è l'equilibratore e con equilibratore non voglio dire non voglio intendere quella frase dispregiativa di quello che fa legna perché Mkhitaryan tecnicamente a livello di dribbling è il più bravo dei tre eppure il più bravo di Cialanolo semplicemente è il più bravo dei tre a fare la doppia fase cioè a fare sia l'offensiva che la difensiva quindi a fare quelle corse di 50 60 metri in avanti e indietro che neanche Barelli e Cialanolo che sono molto più giovani riescono a fare abbiamo tutti negli occhi il gol che salva con l'Udinese su un contropiede dell'Udinese palle e mezzo lui fa 60 metri di campo a tutto andare arriva perfetto in scivolata e salva il gol quello è Mkhitaryan ma allo stesso tempo abbiamo negli occhi anche il gol in derby da andata perché è sempre lì in aria si butta è pronto a segnare le palle le palle che dà gli assist bellissimi sempre nel derby del 5 a 1 e lui che dà una palla meravigliosa a frattesi quindi Michi 8 sicuramente Barellino 8 non do di più non do di più per un motivo perché lui rispetto all'anno scorso è andato un po' sottoresa per numero di gol e numero di assist detto questo è ovunque il nostro motore lo sappiamo è quello che porta la conduzione del contropiede quello che porta la palla in avanti però c'è sempre appunto il neo che ha dimostrato la stagione scorsa di poter fare più gol e più assist quest'anno è andato sotto media lo aspettiamo l'anno prossimo per avere di nuovo la media che Barella sa portare quella della decina di gol e della decina di assist in stagione decisivi fra l'altro veniamo agli esterni mettiamo Darmian perché comunque in tutta la stagione se tiriamo le somme il titolare alla fine è stato Darmian quello che ha giocato di più direi 8 anche lui perché è come il vino più invecchia meglio è polivalente gioca a braccetto gioca quinto tutta fascia a destra a sinistra e ovunque e ovunque e ovunque e gioca sempre da dio gioca sempre benissimo Darmian eh puoi contare su di lui soprattutto in difesa poi ogni tanto si spinge anche in avanti certo non è nelle sue caratteristiche avere quella spinta avere quella spinta però comunque parliamo di un giocatore su cui puoi sempre contare che di sicuro non lascia buchi dietro forse mi ricordo un solo errore in stagione proprio nel derby d'andata dove sbaglia l'anticipo sulle A per il resto è stato sempre perfetto il nostro Darmian veniamo all'altro all'altro esterno a tutta fascia l'interismo puro di Federico Di Marco gioca nell'Inter da da quando era un bambino fino ad arrivare alla prima squadra e fino ad essere protagonista della prima squadra e il suo sinistro è un sinistro clamoroso praticamente di una tecnica incredibile e questo fa sì che sia un'arma Di Marco per noi è proprio una fonte di gioco è proprio noi quando non sappiamo che fare palla Di Marco e ci pensa lui il cross il cross che fa Di Marco e è proprio un'arma d'attacco perché non sai mai dove la mette può andare rasoterra sul primo palo sul secondo alto sul primo palo sul secondo in mezzo o lo scarico all'indietro per chi arriva in inserimento perché non puoi leggerlo perché lui ha grande tecnica tutti quelli che hanno grande tecnica non la mettono sempre in un posto ma variano in base a come si sviluppa l'azione questo perché lui ha un sinistro magico e l'esaltazione di tutto questo poi è nel gol che fa con l'Empoli c'è col da centrocampo ragazzi come come fece prima di lui il mio dio personale Scino Recoppa numero uno giocatore che più amato e quindi Di Marco anche lui otto otto e mezzo Di Marco diamo otto e mezzo tranquillamente tranquillamente otto e mezzo la Tula Turam voto otto e mezzo arriva fra i dubbi arriva fra i dubbi no ma è un esterno sinistro non è una punta non fa gol non sa segnare poi prima che si adatta al campionato italiano ma no non sostituirà mai il bene Dzeko e Lukaku no figuriamoci ha smentito tutti credo sia arrivato a undici e dodici gol in campionato più una decina di assist gol decisivi ha segnato nel derby sia l'andata che a ritorno e che gol perché Turam fa gol molto spesso di una fattura complicata è veloce e potente fisicamente ha un tiro ottimo nel dribbling è fenomenale lui sì e riesce a dribblare non solo a campo aperto ma anche quando le difese sono chiuse a differenza di certi scarsoni con la numero 10 del milan per fare un esempio e quindi è una rivelazione preso a zero e il colpo del mercato dell'inter di quest'anno otto e mezzo spalla ideale per la udaro ovviamente qualora diventasse ancora più cinico sotto porta inizieremo a parlare davvero di un potenziale crack ma fin qui va bene così i suoi dodici tredici quindici con la stagione ci vanno benissimo ci vanno benissimo grande e poi c'è lui e poi c'è il capitano c'è la stella più lucente nostra c'è Lautaro martinez e il toro voto 9 Lautaro se noi abbiamo vinto lo scudetto oltre i pochi gol presi ma devi farli gol è quello che ne ha fatti più di tutti più di venti e lui ragazzi è implacabile quest'anno ancora di più adesso nell'ultimo mese magari sta ricevendo qualche critica di troppo per quale motivo perché lui dopo l'eliminazione dalla champions dopo quel rigore sbagliato è molto emotivo e si è un po buttato giù e questo però ci fa capire anche quanto tenga lui all'inter ok perché emotivamente è provato da quella partita però comunque ci mette sempre l'anima corre sempre anche quando si prende questi periodi di pausa dove non segna è comunque utile alla squadra detto questo il nostro giocatore più forte quello con più status internazionale assieme a pavar e ragazzi il nostro capitano il nostro fenomeno palla Lautaro e andiamo a segnare poco da dire infine veniamo a Inzaghi ragazzi questo è lo scudetto di Inzaghi perché io dico sempre una cosa se noi abbiamo vinto lo scudetto con Inzaghi gran parte oltre che della società quindi della dell'unione fra società Marotta e Ausilio e Inzaghi ok ovviamente poi la squadra la fa giocare Inzaghi e io mi ricordo gente disperata se n'è andato via Perisic oddio non avremo mai più una la sinistra del genere entra di Marco nessuno rimpiange Perisic anzi fa anche meglio vanno via eh Lukaku e Dzeko Turam nessuno rimpiange più Turam altrettanto straordinario anzi migliore a livello anche realizzativo e così possa andare avanti vendiamo Brozovic lui si inventa Cialanolu Play se lo inventa Play già quando c'era Brozovic perché Brozovic si fece male lui lo mette lì e da lì gli fa ha fatto quello che ha fatto Mazzone con Pirlo in sostanza gli ha inventato un ruolo che è il ruolo della sua carriera Darmian Darmian messo Braccetto che aveva sempre fatto l'esterno quando Skriniar ci abbandona lui mette lì Darmian arriviamo al finale di Champions con Darmian Braccetto titolare cioè quando tu hai un impianto di gioco fenomenale chiunque siano gli interpreti se il livello è più o meno è quello la squadra non va sottoresa ok e sapete in cosa vedete l'unicità di Inzaghi che già è difficile fare gol da quinto a quinto cioè i due esterni a tutta fascia uno fa il cross e l'altro segna già è difficilissimo in Italia questa cosa l'abbiamo vista fare solo a Casperini praticamente con l'Atalanta con la differenza di Casperini per fare questo tipo di gioco prende con la balanga Inzaghi con la miglior difesa Italia per numeri ed Europa credo siamo la meno battuta in Europa ha fatto fare gol da terzo a terzo cioè da centrale sinistro bastoni cross e chiude il centrale destro bis col Bologna che segna questa è una roba quindi ragazzi Inzaghi voto dieci voto dieci voto dieci punto poco altro da dire perché veramente è una roba per quanto riguarda le riserve proprio veloce De Frai gli diamo un sette e mezzo perché comunque si è sempre fatto trovare pronto quando Acerbi era in difficoltà o era infortunato era squalificato eccetera anche se pesa la macchia ovviamente della partita con l'Atletico il gol che considera De Frai ma va bene va bene anche così Carlos Augusto sette e mezzo anche lui si è sempre fatto trovare pronto sia per sostituire Di Marco perché sappiamo che il nostro Fede non essendo aiutato da un fisico imponente a sessantacinquesimo settantesimo bisogno di riposare e Carlos Augusto ha fatto bene con i cross si è inserito ha fatto anche qualche gol e poi polivalente perché ha giocato anche braccietto sinistro ha sostituito spesso anche bastoni di benissimo Carlos Augusto sette e mezzo anche a Bissec questo ragazzo viene da un campionato che non esiste sulla cartina geografica eppure eppure ha sempre reso quando è stato chiamato in causa ha fatto anche con l'importante ho citato prima quella di Bologna penso anche a quello insomma alle alle sue prestazioni in generale no sempre molto sicuro con la palla e si propone bene in avanti è un braccetto del futuro un braccetto destro abbiamo trovato un bravissimo un bravissimo difensore Aslani anche lui suo sette sette e mezzo io lo diamo ha giocato meno degli altri due è entrato meno ma quando è entrato si è sempre fatto trovare pronto tranne tranne in Champions con la Real Sociedad dall'andata anche col Benfica non gioco bene però ragazzi insomma deve avere il tempo di crescere ma la tecnica c'è e abbiamo tutti in mente il lancio che fa con la Roma da subentrato grande lancio per Di Marco palla e mezzo per Turam gol all'ottantaduesimo il gol quindi nasce dai suoi piedi eh ho difficoltà a classificare classe nel Sensi eh Sensi vabbè ragazzi è un po' come quadrato come non averlo e rosa classe è entrato pochissimo e poi ci sono Arnaudovic e Sanchez eh ah ah scusate dimentico Dunfris Dunfris si rombe sette perché soprattutto all'inizio stagione il titolare era lui ha giocato molto bene poi ha avuto quell'infortunio eh un po' anche la questione del contratto è sceso di di prestazioni ha perso il posto da titolare a favore di Darmian ma comunque a me piace sempre spinge fa il suo poi in difesa è abbastanza forte quindi sette a Dunfris si lo diamo Arnaudovic e Sanchez Sanchez più nel finale di stagione è riuscito a incidere qualcosina con qualche assist qualche gol grande tecnica ma è un giocatore arrivato purtroppo c'è un' autonomia di venticinque minuti mezz'ora Arnaudovic diciamo che è un po' la nota negativa a me non è per niente piaciuto ma faremo di tutto per toglierlo dalla squadra detto questo fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate prima se iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che varivino le mie notifiche di quando faccio i video di quando faccio le live quindi iscrivetevi al canale fatelo per idee dell'algoritmo di YouTube il nostro solito salute latino vide te mox forza inter sempre amala Grazie a tutti